Ciao, sono Zerro Calcare e queste sono le cose che mi sono state chieste di chiarire circa il vocabolario di secco. Andiamo a piangere lato che tantissime persone sono convinti si tratti di un invito a consumare sostanze stupefacenti e in realtà no, in realtà secco si mangia un gelato, pure perché peraltro è striteggio come me quindi non sono sostanze che creano dipendenza o altre non la coscienza, bla bla bla. Il sangue dal naso è il suo modo per ottenere qualcosa, nel senso mi ricordo che da quando eravamo ragazzini lui sosteneva che doveva sedersi davanti in macchina quando non stavamo più persone perché sennò gli usciva il sangue dal naso, evidentemente non ha nessun fondamento medico e comunque gli funziona perché la gente rimane un po' interdetta. I bomboni, che effettivamente mi sono stati chiesti perché pure per i bomboni la gente pensava ah ma sono le canne, i bomboni no, i bomboni sono le bombe carta.